Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Michele Colnaghi, vi do il benvenuto all'interno del mio canale. Oggi, come avrete già letto dal titolo, parliamo del posizionamento della gabbia piuttosto che del recinto all'interno della casa. Molti mi hanno chiesto e mi hanno mandato foto e video di, insomma, spiegare un po' dove posizionarlo al meglio perché alcuni erano proprio molto 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 sbagliati. Oggi cominciamo a parlare dei punti dove non va assolutamente messa la gabbietta o il recinto stesso del coniglio. Logicamente non va messo mai e ripeto mai vicino a fonti di calore forte, quindi vicino a fuochi piuttosto che stufe. Logicamente il fuoco è pericoloso perché dovesse cadere una falia. Il coniglio può prendere fuoco perché ha il pelo, la pelliccia, è un materiale che tende a infiammarsi molto molto velocemente e in più prende radiazioni di calore troppo forti, troppo forti che possono dar fastidio. Una cosa è il coniglio va al fuoco quando vuole lui, quindi come succede anche a me, a volte il coniglietto si avvicina al fuoco, sta lì, si scalda un po' e poi si sposta. Diversa è la situazione in cui il coniglio ha solamente una fonte di calore così forte e sempre vicina. No, quindi levatelo sempre e spostatelo da una fonte di calore troppo forte perché gli dà fastidio e lo può danneggiare, quindi può fargli del male. Oltre a questa fonte di calore, quindi il fuoco, anche le stufe sono dannose per l'animale perché continuano a cedere calore all'esterno, quindi continuano a, in termine pratico, buttare fuori caldo e quindi il coniglio è sempre soggetto a questa fonte di caldo che arriva, arriva, arriva continuamente e è appunto molto fastidioso. A differenza di quanto si possa pensare, il coniglio soffre tantissimo il caldo e non soffre per niente il freddo. Logicamente avendo il pelo si regola la temperatura interna e quello che gli serve. Oltre a queste, diciamo, tre fonti di calore è il classico termosifone. Il termosifone o classico calorifero che avete tutti in casa è un gran problema perché anche quello butta continuamente verso l'esterno caldo, quindi calore, che l'animale non può scappare, insomma, continua a rimanere in una situazione molto molto stressante. Oltre a tutte quante le fonti di calore che abbiamo trattato fino adesso, un'altra fonte un po' pericolosa sono i classici pinguini piuttosto che i climatizzatori. Il climatizzatore, come sapete tutti, butta verso l'esterno aria fredda e l'aria fredda è dannosa perché colpendo continuamente il coniglietto che è nel suo box piuttosto che nel suo recintino, questo getto di aria fredda che continua a colpire l'animale porta al 99,9% un raffreddore forte piuttosto che i bronchiti o qualcosa di, diciamo, molto molto pericoloso e dannoso anche per l'animale. Quindi noi, come sapete, non vogliamo del male per i nostri animali e evitiamo questi punti sbagliati. Ora arriviamo ai punti positivi, quindi dove si può mettere un coniglietto? Beh, come avete capito, un bel punto dove va messo il coniglietto è dove prende luce, quindi sole vicino alle finestre piuttosto che proprio sotto le finestre stesse, non c'è assolutamente nessun problema. Il coniglio prende luce, non ha nessun stress e in più appunto più luce prende più lui è felice perché gli fa bene. Anche il sole, la luce diretta del sole se colpisce, diciamo, una parte, quindi un terzo della gabbietta o recinto che sia, va benissimo. Il coniglio si metterà lì in alcune ore della giornata quando lui vorrà e si scalderà tipo coniglio a pannelli solari e va benissimo, non c'è assolutamente nessun problema. Molti per esempio li mettono vicino ai divani, assolutamente sì. L'importante è che tutte le posizioni dove voi lo andrete a mettere non siano a diretto contatto con una fonte di calore molto forte piuttosto che una fonte di raffreddamento, quindi termosifoni, termoconvettori, pompe anche pompe di calore classiche perché quelle fanno logicamente sia aria fredda che aria calda. Vanno appunto levati dalle traiettorie dove va l'aria, quindi voi levate il coniglietto da quell'aria diretta di spazio dove l'aria appunto va. Vi raccomando mai, e ripeto mai, nella direzione esatta dove il vento va perché se il coniglietto ha l'aria fredda puntata addosso sempre o l'aria calda puntata addosso sempre, non è positivo. Il coniglio si danneggia, sta male e una volta che diciamo ha avuto grossi problemi a livello di salute va portato dal veterinario. Quindi come ripeto spostatelo da quelle che sono le linee dove l'aria va, dove l'aria si direziona perché una pompa di calore, un climatizzatore, buttano aria verso l'esterno continuamente durante la giornata per appunto rifrescare la vostra casa piuttosto che scaldarla, ma il coniglio non può spostarsi. Logicamente se lui si vuol riposare, anche se la gabbietta è aperta tutto il giorno, ma lo sapete, molti conigli si riposano nella loro gabbietta, se quella gabbietta è esposta sempre a una fonte di calore piuttosto che una fonte di raffreddamento è un gran problema perché lui non può riposare in pace oppure si riposa ma sta anche molto male. Quindi vi raccomando state attenti perché sennò le spese di veterinari aumentano in modo esponenziale. Un altro posto dove il coniglio non va messo è la cantina. La cantina è umida, è ricca di umidità, non va bene perché oltre ad essere appunto umido e fonte di qualsiasi tipo di batteri o perché l'umidità può portare anche i batteri, non è bello per il coniglietto, non starà bene, logico, si parla di cantine piuttosto che lavanderie, quindi luoghi un po' bui e angusti che nessuno di noi mai andrà a metterli, però io voglio specificarlo perché mi sembra corretto, non va bene, logico, se avete una taverna allestita con i dovuti criteri di adesso non c'è assolutamente nessun problema, sono praticamente delle zone totalmente abitabili dove si vanno a fare feste piuttosto che ci si può trovare con amici, ci sono tavoli, fuochi, insomma le strutture adesso sono davvero molto molto attrezzate, molto diciamo moderne e quindi si può tranquillamente posizionare un coniglietto anche in una taverna, ma nel momento in cui è davvero tanto tanto umida non farà bene al coniglio, logicamente l'umidità può portare reumatismi, può portare disfunzioni metaboliche e altri problemi che come sempre sfociano i problemi veterinari. Quindi una volta che abbiamo parlato di tutto questo avete spero capito un po' quale sarà la zona giusta per la vostra casa, io vi consiglio sempre di contattarmi, se avete bisogno mandatemi una foto o un video, io lo analizzo senza nessun problema, logicamente nei tempi limite del possibile, io lo analizzo e vi dico secondo me il punto migliore è quello o piuttosto un altro, oppure mi fate voi delle proposte, mi dite Michi, guarda io voglio mettere la gabbietta qui, piuttosto che voglio metterla da un'altra parte, cosa ne pensi? E io nell'arco di un tempo diciamo abbastanza decente, spero di riuscirci a rispondervi, però ho sempre risposto a tutti, mi impegno sempre e per i nostri animali che sia che li prendete da me, sia che li prendete da un'altra parte, io cerco di fare il possibile. Quindi io vi ringrazio tantissimo per essere rimasti fin qui in fondo, come sempre potete andare a vedere altri video, lasciatemi un mi piace se avete voglia, a me fa sempre molto piacere, un commento, anche altre idee proposte che nell'immediato spero di riuscire a saziare, quindi riuscire a fare dei video e riuscire a farli uscire insomma con la costanza che sto riuscendo ad avere in questo periodo. Io vi ringrazio tantissimo e noi ci vediamo un prossimo video, ciao ragazzi!